Ciao a tutti bentornati nel mio canale di Cosmica Rosso. Sono tornata presto per farvi vedere il mio lavoro finito del cal del lampo estivo di Antonia D'Husman e col supporto di Nadia Bucchieri. Il lavoro è di Antonia D'Husman. Quindi il mio lavoro finito, eccolo qua, il mio bellissimo scialle lampo estivo. Vi faccio vedere i punti utilizzati con legaccio, punto mosaico, poi c'è il punto brioche, questi raggi che vengono giù. Di nuovo il punto mosaico e il punto brioche sincopato, cioè scambiando i binari non viene tutta una riga che viene giù così, viene sfalsato insomma. Ed è molto molto carino, molto bello. Finisce con sempre punto brioche con i ventaglietti, questi ventaglietti qua, bellissimi. E poi il bordo è particolare, bello. Cioè una cosa proprio molto molto fine, dove alla fine finisce con sei punti e si chiudono con l'ago. Troppo bello. Sono veramente veramente soddisfatta di questo lavoro, bellissimo. E adesso vado avanti con gli altri lavori, tra cui quella famosa maglia da uomo che avevo iniziato e un'altra, ne ho iniziato, un'altra per me. Ma è ancora troppo presto, sono ancora agli inizi, quindi prossimamente ve li farò vedere. Grazie a tutti, ciao, un bacio.